Buonasera dal TGN, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Si è da poco conclusa la conferenza stampa dell'assessore regionale al welfare Giulio Gallera. I dati di oggi vedono un calo di contagi nelle province più colpite. Milano città però supera i mille positivi. A Bergamo 4.305 contagi più 312 rispetto a ieri. A Brescia 3.784 con un incremento di 484 unità. A Como 286 contagiati più 30 rispetto a ieri. A Cremona 2.167 più 94 casi. A Lecco l'incremento è stato di 26 unità e sono 466 contagiati. A Lodi 1.445 più 27. Monza e Brianza 401 contagiati con un incremento di 25 in più rispetto a ieri. A Milano 2.644 più 318. Parliamo di Milano provincia. A Milano città, solo a Milano città, ci sono 1.091 contagiati. A Mantua 514 contagiati più 49. A Pavia 978 più 94 casi. A Sondio 75 casi positivi con un incremento di una solo paziente. A Varese 265 casi più 31 rispetto a ieri. 383 sono i casi in corso di verifica. Ma sentiamo da gallera i dati complessivi con il triste record di oggi di decessi. registrato nelle ultime 24 ore in Lombardia 319 morti. Mentre in Italia il numero di scomparsi per colpa di questo maledetto virus è di 475. Giulio Gallera. Oggi noi abbiamo 17.713 positivi con una crescita di 1.493 che è inferiore a ieri che era stato di 1.971. Quindi questo è sicuramente un dato che ci conforta. Il dato degli ospedalizzati è di 7.285 più 332. ieri era più 782. Quindi anche questo è un dato che è positivo. Il dato delle persone in terapia intensiva è 924 più 45. Ieri era più 56. Quindi anche questo è un elemento che noi raccogliamo con soddisfazione. Il numero dei decessi continua invece a crescere in maniera importante. Siamo arrivati a 1959 con una crescita di più di 300 rispetto a ieri. Quindi questo è un elemento sicuramente che ci intristisce particolarmente. Parliamo di nostri concittadini che a causa del coronavirus o con il coronavirus sono deceduti. E mentre nelle corsie degli ospedali medici, infermieri e pazienti continuano a combattere questo virus è stato istituito un nuovo fondo destinato a raccogliere somme di denaro per realizzare l'ospedale a Fiera Milano City. Fondazione Fiera Milano ha dato vita a un nuovo fondo destinato a raccogliere capitali e risorse per sostenere la realizzazione dell'ospedale a Fiera Milano City. Lo ha riferito il presidente della regione Attilio Fontana. Il governatore ha ringraziato gli autori delle donazioni alla raccolta lanciata dalla regione a cui oggi si è aggiunto un altro milione di euro donato da Bayer e che continuerà a essere attiva per far fronte all'emergenza. Tornando al fondo è costituito nell'ambito della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud-Ovest, Sud-Est e Adda Martesana Onlus. Nel lanciare il fondo, che si propone di raccogliere soldi soprattutto da imprese e organizzazioni economiche, Fondazione Fiera Milano ha stanziato per prima un milione di euro attingendo alle proprie riserve. Con questo strumento Fondazione Fiera Milano si pone come facilitatore nella raccolta di donazioni da parte di aziende e gruppi che considerata la particolare situazione di emergenza vorranno destinare al progetto risorse o contribuire al suo finanziamento con progetti speciali. Grandi aziende, multinazionali, istituzioni del settore economico e finanziario, nomi storici dell'imprenditoria milanese e lombarda. Tra le prime adesioni viene già confermata quella a titolo personale di Diana Bracco, presidente del gruppo Bracco. In Lombardia ieri il 40% della popolazione si è spostata oltre i 300 metri dalla propria abitazione. Il dato si evince grazie ai dati che sono scaturiti dall'utilizzo di una app messa a disposizione di regione Lombardia dalle compagnie telefoniche. Se i numeri del contagio non dovessero diminuire, la regione chiederà al governo di adottare provvedimenti più forti per obbligare le persone a rimanere a casa. Parole e musica sono del governatore Lombardo Attilio Fontana dopo le notizie di ieri quando sono stati resi noti i dati sugli spostamenti con le celle telefoniche usate per capire chi esce di casa. E in Lombardia ieri ancora il 40% delle persone ha compiuto spostamenti oltre i 300 metri. Nonostante i divieti e gli appelli a non uscire di casa per limitare la diffusione del contagio da coronavirus, ripetendo l'invito di stare a casa in modo educato, Fontana ha detto che tra un po' occorrerà cambiare il tono perché se non si capisce con le buone bisogna essere un po' più aggressivi anche nel farvela capire. Non vi stiamo chiedendo un sacrificio così, ma per salvare delle vite umane. Ogni uscita di casa è un rischio per voi e per gli altri, ha affermato Fontana. Per quanto riguarda il controllo sui cellulari, l'assessore al welfare Giulio Gallera ha precisato che c'è un'applicazione che le grandi compagnie telefoniche hanno messo a disposizione per vedere in maniera aggregata e totalmente anonima il flusso delle persone, come si sono mosse all'interno della regione o fuori. Nessun controllo come il grande fratello, ha concluso Gallera. E oggi in conferenza stampa Fontana ha affermato che se si continua così non si potranno curare gli ammalati negli ospedali perché le strutture sanitarie sono ormai in saturazione. Sentiamolo Fontana. Non dovete uscire, dovete stare a casa. Purtroppo i numeri del contagio non si riducono, continuano ad essere alti. Fra poco non saremo più nelle condizioni di dare una risposta a chi si ammala. Amici, nessuno si sta chiedendo un sacrificio così. Iniziamo chiedendo un sacrificio per salvare delle viti umane. Forse voi non l'avete ancora capito, ma ogni uscita di casa è un rischio per voi ed è un rischio per gli altri. Per adesso ve lo chiediamo. Se si dovesse andare avanti chiederemo al Governo di emanare dei provvedimenti ancora più rigorosi. E intanto prosegue l'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine nell'area metropolitana di Milano nei confronti di chi non rispetta le disposizioni per contenere il contagio. Nella giornata di ieri sono state complessivamente 306 le persone denunciate. 292 per non aver rispettato l'articolo 650 del Codice Penale sugli spostamenti limitati. 14 per aver invece rilasciato false dichiarazioni a un pubblico ufficiale in base ai due articoli 495 e 496 sempre del Codice. I dati sono contenuti nel report che è stato reso noto dalla Prefettura di Milano e nell'arco delle scorse 24 ore sono stati effettuati controlli su 5.123 persone mentre 4.329 sono stati gli esercizi commerciali che hanno ricevuto una visita di verifica da parte delle forze dell'ordine. 3 sono stati sospesi, 6 sono i titolari di attività denunciati per inottemperanza delle norme vigenti. E oggi nel videomessaggio lanciato ai milanesi dal sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala c'è stato il rinnovo ai cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni. Sala ha anche affermato di trovare inaccettabile che i medici, personale sanitario, medici di base non vengano sottoposti alla prova, al test del tampone. Lo sentiamo. Appello del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il runner lo ha lanciato con il suo videomessaggio quotidiano postato su Facebook. Guardate, premetto che voi, secondo i decreti del governo, potete correre. Ma detto ciò, provate ad avere questo pensiero. Mentre tu runner corri, sei felice, ne hai 100 alla finestra che ti guardano e si arrabbiano perché si sentono reclusi mentre tu corri per le strade. Quindi facciamo tutti una riflessione. Agli anziani, e non andate a comprare ogni giorno 4 panini e 5 arance, cercate di stare in casa. Ai ragazzi, e non si gioca per le strade o nei parchetti. Ed è così. Permettetemi di dire che trovo comunque inaccettabile che ai medici, al personale sanitario, ai medici di base non venga fatto il tampone. Questo lo trovo francamente inaccettabile da parte della nostra sanità. Il primo cittadino di Milano ha poi rivolto la sua attenzione al post emergenza, un periodo che sarà molto difficile da gestire per riavviare il motore di Milano. Perché dopo si dovrà mettere in atto una ricostruzione sociale ed economica senza precedenti. Ma io ci sono e sono qui a lavorare con i miei collaboratori per la città. A segnalare la loro presenza in piazza Vigili del Fuoco a Milano è stata la chiamata di un cittadino residente nella zona, parliamo della zona Rubattino-Ortica, che ha notato un assembramento all'interno del parchetto. Gli agenti della polizia sono giunti sul posto e hanno identificato e denunciato i 5 ragazzi presenti per mancato rispetto delle norme. I giovani, 4 ragazzi tra i 25 e i 21 anni con una ragazza 21 anni, hanno provato a giustificare la loro presenza sul posto, sostenendo di essere lì per aspettare un'amica. Sono 36 nuovi posti letto che l'Istituto Luigi Palazzolo della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus ha messo a disposizione per pazienti clinicamente guariti dal coronavirus, ma che non possono ancora tornare alla vita di tutti i giorni. Intanto si fa sentire anche l'emergenza sociale, l'erogazione di generi alimentari negli empori della solidarietà di Caritas Ambrosiana è aumentata del 30%, come ci racconta Anna Maria Braccini. Anche la Chiesa Ambrosiana è sempre più in campo e impegnata per l'emergenza coronavirus. Non solo i messaggi dell'Arcivescovo di Milano, le buone pratiche ecclesiali promosse da moltissimi sacerdoti, ma anche le eccellenze. E così l'Istituto Luigi Palazzolo, appartenente alla Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, apre le porte di un nuovo reparto che accoglie i pazienti ritenuti clinicamente guariti dall'infezione del coronavirus, dimessi dagli ospedali lombardi. L'Istituto è una struttura sanitaria privata no profit, che eroga prestazioni e servizi in regime di convenzione con la sanità pubblica regionale nazionale. I 36 letti del nuovo reparto accoglierà i pazienti che, pur essendo considerati guariti, hanno ancora bisogno di un supporto clinico e assistenziale, prima di poter tornare alla vita di tutti i giorni. L'obiettivo è quello di creare una sorta di sistema di vasi comunicanti tra le strutture che sono in primissima linea per debellare le patologie conseguenti all'infezione da Covid-19. E naturalmente Caritas è sempre in prima linea. Infatti, nelle ultime tre settimane è aumentata del 30% la distribuzione di aiuti alimentari negli empori. L'aumento si è reso necessario a causa dell'accresciuto bisogno delle famiglie registrato dall'inizio del coronavirus, come ha sottolineato Luciano Gualzetti, direttore di Caritas. Le famiglie oggi hanno più bisogno ed è solo una visaglia della crisi sociale che sta scoppiando dentro l'emergenza sanitaria. E ciò non va sottovalutato. Sia il presidente della Fondazione Don Gnocchi, Don Enzo Barbante, che il direttore Gualzetti saranno ospiti della trasmissione La Chiesa nella Città domani giovedì dalle 18.30 via Skype. E vi ricordo l'appuntamento con il Rosario domani per accogliersi in preghiera dalle ore 21 su Telenova. L'invito è anche quello di mettere dei lumini, dei candeline, dei lumicini fuori dalle finestre o un lenzuolo bianco. C'è poi un altro aspetto inquietante di questo periodo, coronavirus in aumento, lo leggiamo dal giorno.it, la pagina di Milano, coronavirus in aumento ad estramento di minori online, tanto tempo in casa davanti al PC, allarme della polizia postale, aumentano le persone denunciate, molto tempo da trascorrere in casa, magari su internet e social network. Può essere pericoloso soprattutto per i più piccoli che rischiano di finire nella rete tesa da qualche malintenzionato. E questo l'allarme lanciato alla polizia postale che negli ultimi giorni ha rilevato un consistente aumento delle persone denunciate per adescamenti online in danno di minori. Sempre più spesso infatti questi pedofili usano i social network per individuare i loro target, sfruttando le numerose informazioni, ovvero sia luogo di residenza, fascia di età, hobby, passioni che inconsapevolmente i giovani espongono sui propri profili in rete, facilitando così queste inqualificabili persone, l'individuare le vittime geograficamente più vicine, le fasce di età genere atteggiamenti più attraenti per loro. Quindi un appello anche ai genitori di dare un'occhiata in più ai loro figli che sono davanti al computer oppure davanti al cellulare. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo l'appuntamento subito dopo la sigla e le previsioni del tempo con Nova Stadio TG. Dopodiché ci sarà una puntata speciale, come al solito, di questi tempi di Nova Stadio con Luciano Rindone e con Michele Lanati fino alle 22.45 per parlare di calcio ma anche per continuare tutti gli aggiornamenti sul coronavirus e su tutte le novità che ci sono e ci saranno da qui alle 22.45. Nova Stadio, qui su Telenova. Grazie della cortese. Attenzione a tutti voi e l'augurio di una serena serata. Arrivederci.